Ciao ragazzi, per la serie è proprio quando pensi di aver migliorato tutto che devi iniziare a migliorare oggi con questo video inauguro una nuova serie in cui vi tengo con me mentre faccio i lavori sui miei mezzi credevo nel caso del Suzuki di aver raggiunto un punto in cui mi sarei fermato poi ovviamente a bocce ferme il cervello rielabora e trova sempre alcune piccole cose alcuni piccoli miglioramenti che secondo me comunque miglioreranno la sfruttabilità sempre più del mezzo e che quindi alla fine devo mettermi dietro a fare e visto che c'è l'occasione iniziamo oggi mi farete compagnia, mettiamoci al lavoro allora siamo in abitacolo, vi spiego un po' quello che andrò a fare da qui ai prossimi mesi per farvela breve ho avuto occasione di prendere un cruscotto realizzato in alluminio molto bello che mi permetterà proprio di rendere molto più pulito e minimale l'intero cruscotto del mio Suzuki andando quindi a pulirlo di un sacco di cose tra virgolette inutili renderlo molto essenziale, una linea molto pulita e quindi sto iniziando un po' a riorganizzare le cose allora come vedete qua ho completamente riaperto il pannellino che mi comanda il verricello anteriore e anche perché avevo dei problemi con lo staccabatteria vecchio era nuovo però non andava bene a volte non ho provato a smontare il meccanismo controllato, ricontrollato, riassemblato, niente allora l'ho preso, l'ho sivellato via e ho preso questo che chiaramente nel pannellino intanto non ci andava perché quell'altro era diverso e poi comunque in previsione di cambiare l'intero cruscotto adesso sto cercando di capire dove andare a collocare questo le opzioni erano diverse metterlo centrale qua sul tunnel oppure qua dove c'è la colonna del cambio fare i fori, quindi nel forare la scocca e andare ad avvitarlo lì cercando meglio adesso sto provando a pensare anche perché probabilmente sposterò anche la posizione dell'autoraglio del CB di tutto dovendo fare il cruscotto nuovo ho trovato qua nel montante in metallo diciamo del telaio che tiene sul cruscotto una posizione che potrebbe fare al caso mio sfruttando il suo coperchio questo qui lo foro in maniera che rimanga lui stesso mi faccia di fatti da piastra quindi di sostegno allo staccabatteria e provare a fissarlo in questa posizione qua sotto defilata questo rimarrà fisso lì penso che sia la posizione migliore adesso ve la faccio vedere meglio da vicino e niente poi chiaramente una volta che avrò il cruscotto nuovo andrò a fare dei fori appositi per alloggiare gli interruttori carlings e gli altri interruttori che mi servono bene procediamo allora ragazzi ho pensato di fare così sfruttando il coperchio sotto dello staccabatteria fargli due fori in mezzo che stiano centrali e usare lui stesso praticamente come telaglietto di sostegno dello staccabatteria quindi non andare a forare il tunnel centrale per fissarmelo perché avevo pensato di posizionarlo o qua oppure anche qua di lato ad esempio ma spostandomi qui vedete questo è il telaio che è il telaglietto che sorregge il cruscotto qui ha questo pezzo che ha queste due viti forare lui mettere questo così e tenermi lo staccabatteria praticamente qua sotto in posizione defilata comunque attaccato cioè non dovendo fare fuori alla scocca o al telaglietto stesso perché si autosostiene in questo modo e provare in questo modo qua a metterlo nella sua posizione definitiva in attesa poi di cambiare tutto il cruscotto l'intrigo di cavi avrete già iniziato ad aprire un po' tutto poi nelle prossime settimane procederemo con i lavori con un po' di gentilezza vengono via adesso mi faccio il riferimento dei fori perforare allora ragazzi ho misurato l'interasse tra i due fori è 3 cm quindi qui lo metteremo al centro uno foreremo qui e l'altro qui solo un po' di richiamo quindi andiamo poi so l'idea è questa in questo dovrebbe venire qui proviamo ecco io direi che qua è la sua posizione fuori dalle scatole cb e tutti i cavi poi cambierà tutto vedete tutto aperto in attesa poi del cruscotto di fare tutti i lavori lui qui comunque fisso e stabile ed è a posto dirà diciamo non ha non ha problemi così alimenti il verricello e così invece lo stacchi a posto qua e saldo e niente dopo poi qua verrà il cruscotto d'alluminio e qui diamo una bella pulita lavoro fatto bene ragazzi continuiamo con la serie dei lavori sul mio suzuki chi mi segue su instagram sa che qualche mattina fa venendo a prendere la macchina ho trovato una bella sorpresa praticamente il tubo della benzina che oramai ha più di 30 anni si è completamente sbragato e quindi ho dovuto ordinare un ricambio e l'ho preso da hm 4x4 è leggermente più lungo dovrebbe essere l'ideale da abbinare assieme al body lift da 5 centimetri che io sul suzuki in questo modo il tubo diciamo che rimane in posizione e lavora molto meno stirato rispetto a quanto rimaneva il suo originale che ovviamente è di una lunghezza adatta alla altezza della macchina originale ecco quindi non è che non si riesce a usare solo che lavora più stirato e alla lunga si è seccato si è seccato si è seccato negli anni e si è aperto mi ha ceduto completamente me lo son trovato la mattina con la benzina in terra e bene dai rimettiamo in pista la macchina e speriamo che duri altri 30 anni questa qui ragazzi la paratia che ho già messo per evitare quando prendi dei sassi o della roba anche dei legni dei rami soprattutto le ramaglie in terra strappano molto se anche la ruota la prende questa scivola fuori e non mi strappa il tubo e questo ragazzi sarà forse il più importante upgrade che farò questo autunno dopo anni di onorato servizio mando in pensione l'impianto luci supplementari alogeno del mio suzuki in favore del led e ho scelto questi faretti da lavoro ella della serie valufit s3mila quattro gialli e uno bianco come faretto da lavoro posteriore questi faretti gialli verranno messi al posto dei due alogeni che ho sul bull bar e degli altri due che ho fissati sopra il tetto nel roll bar posteriore e sono degli ottimi faretti da lavoro hanno la protezione classic ip67 qua vedete un po tutti i dati che possono lavorare sia diciamo in qualsiasi posizione le vogliamo far lavorare anche completamente ribaltati 2200 lumen e molto indicati per gli ambienti come quello dove mi muovo io che in autunno in inverno spesso e volentieri ci sono dei nebbioni che la puoi affettare al posteriore invece questo faretto qui è più potente è un 3400 lumen come potete vedere e anche ha una protezione superiore alla classica ip67 comunque mi serve veramente come luce da lavoro ausiliaria nelle retromarce quando lavoro al posteriore della macchina questo è un upgrade abbastanza importante almeno per le mie finanze perché la ella se li fa pagare bene questi faretti ma anche come qualità costruttiva come vedrete poi quando li avrò installati insomma ne sono imparagonabili rispetto alle cinesate economiche che troviamo facilmente sul web a pochi euro ecco guardate ragazzi solo per farvi vedere chiaramente vabbè a parte la tecnologia che è praticamente quella di 30 anni fa se non di più perché una comunissima luce alogena questi è la da lavoro sono bestiali cioè basta guardare solo lo spinotto d'innesto dei cavi che guardate questo lo rende completamente impermeabile resistente alla polvere poi anche il corpo d'alluminio ecco una differenza grossa che noto rispetto alle luci a led economiche è lo spessore stesso del dell'alluminio e il fatto che tutto il corpo è in metallo cioè anche questa parte qui dove si infila la vite nella della staffa diciamo che sorregge il faretto è in metallo mentre spesso e volentieri nei faretti economici il corpo si è in alluminio ma molto sottile e la parte qua sotto è già già di plastica questo è tutto alluminio un blocco unico favoloso e anche la vernici la qualità della verniciatura insomma è la è un marchio storico e non a caso è sul mercato da così tanto tempo direi che anche come dimensioni ragazzi ci ho preso è il suo è solo stringiamo non regoliamo e poi facciamo i cavallaggi il faretto vedete collegato tramite lo sto spinotto completamente impermeabile resistente alla polvere alle abrasioni agli urti anche al calore e niente quindi praticamente in caso io debba smontare poi il faretto da lavoro è molto più immediato perché mi basta slacciare lo spinotto l'occorrenza si può sostituire senza dover sempre mettere mano all'impianto elettrico al cablaggio adesso completo completo il tutto e via così ecco qui ragazzi non posizionato quello che sarà la posteriore qua sopra messo una tannica più piccola in maniera da averlo libero nell'occorrenza si serve la tannica più grande da 20 litri la si monta questa è da 10 però in questo modo qua siccome il faretto più pesante ho sfruttato un attacco che già era già avevo filettato sopra al portellone maniera che rimane in pari lì questo vecchio lo elimino e niente adesso poi gli farò i vari cablaggi questa è una tannica da 10 litri mi cadeva a fagiolo perché almeno riesco a tenere libero il faretto e poterci usarlo insomma poi se devo avere più benzina una tannica più grande si fa sempre in tempo a mettere la tannica più grande si fa sempre in attacca Grazie.